Romantica Lux è la più veloce alla chiusura delle avi e assume il comando davanti a Rudy Boy, Ray Ferdinando e Remigio Lewis più a largo, il galoppo di Ray Ferdinando. Romantica Lux adesso avvicinata da Rudy Boy, 200 in 16 secchi, in seconda posizione alla corda ramata veloce dalla seconda fila, sta passando Rudy Boy, interviene Remigio Lewis a largo, che va a caccia del leader. Primo quarto in 32 scassi, corre davanti Rudy Boy e Remigio è costretto a largo, poi Romantica Lux, ramata e rosellina. I 600 in 47 e mezzo, Rudy Boy sta facendo melina con ai fianchi Remigio Lewis, a largo si fa vedere Reaget che punta in terza ruota, a questo punto insiste però Remigio. Giro di pista in 1.5, Rudy Boy e Remigio Lewis alle prese, quanto marcano circa 700 metri alla conclusione. chilometro in 21, Rudy Boy lungo la corda, Remigio a largo, in terza ruota Reaget, si avvicina Ramada. Poi Rosellina in cerca di Varco. tre quarti di miglia in 1.36 e mezzo, retrocede Remigio Lewis, allunga Rudy Boy, seguito da Romantica Lux e Rosellina. Retta d'arrivo, Rudy Boy seguito da Romantica, Romantica va a caccia di Rudy Boy, Rudy Boy allunga, prende vantaggio Rudy Boy, a largo interviene Rosellina, ma il palo è vicino, Rudy Boy, Rosellina, Romantica Lux. Affermazione di Rudy Boy e Francesco Esposito. Rudy Boy nasce da Daskogar e Gerl RL, 7,25 euro la quota del vincito.